Zambelli si accentra, Zambelli con il destro verso Mitrovic, il cross arretrato e il tiro di VUI due volte! Spezia 0, Brescia 1, la firma è di VUI! Ecco il Crozzanzonini! Un gol bellissimo di Marco Sanzonini, il terzo del campionato, la Spezia fa 1-1! Spara la porta, Cacca riesce a girarsi, poi Bovo in mezzo di Gennaro, e calcio di rigore! Il fallo di Welbeck su Di Gennaro, calcio di rigore, si infuriano i giocatori del Brescia! Per me Welbeck si pianta giù, onestamente non vedo il fallo! Il fischio è l'arbitro, parte Di Gennaro! Lo Spezia avanti, 2-1, anti-Gennaro su calcio di rigore, dopo Verona! Ribaltato il risultato, adesso conduce lo Spezia, deve inseguire il Brescia! Guarda Crisitig per Sanzovini, il pallone che passa, Bovo può involarsi verso la porta di Arcari, Bovo e le tocco per Sanzovini, Sanzovini! Ancora Sanzovini, 3-1 Spezia! Ancora, manca una partita a la...